Il Signore Gesù che si abbatta ai discepoli sul lago di Genesare e ai salvati da Nautazio, vieni accanto a noi in mezzo alle difficoltà del mondo, preghiamo. Il Signore Gesù che dice, vado con bagno di viaggio sulle strade di Emo, sostienici nel carmino. Entrati in servizio questa mattina, il nuovo scolabus acquistato dal comune di Baltipaia, con una piccola cerimonia nei pressi del municipio con la benedizione di Donezio Miceli, dove è stato presentato alla città. Un investimento di 109.000 euro per il nuovo scolabus. Il mezzo ha una capacità di 29 posti e una piattaforma per il trasporto dei portatori di handicap. Nel nome del padre del figlio dell'Emo, il Signore sia con voi. Ogni volta qualcosa aiuta il sociale, le persone che sono in difficoltà e che hanno bisogno di nuovi metodi di trasporto, non si tratta di assistere attraverso strumenti e metti in questo caso. Per il 2025 è previsto un acquisto di un secondo mezzo e un terzo nel 2026 per rinnovare completamente il parco scolabus del comune.